Giulio Tremonti, uscita di sicurezza per Rizzoli. Giulio Tremonti è amato, odiato, contestato, sicuramente non proprio simpaticissimo, però è un fine analizzatore della situazione economica e ha delle visioni di lungo respiro. In qualche caso è arrivato anche a raccontare prima del tempo quello che sarebbe accaduto. Esce con questo nuovo libro, uscita di sicurezza, per minere fuori da questo caos. Un altro libro molto interessante e che trovo un po' difficile da presentare, ma lo presento in un'ottica di speranza, di lavoro, di riuscita, è questo libro, sogni coraggiosi, di questo Marco Marozzi. Marco Marozzi è un medico, un scienziato, un ricercatore dell'ospedale di Ferrara, malato lui e che ha avuto un problema con la moglie malata di sclerosi multipla. Le soluzioni non vengono date dai libri che si trovano in libreria di amena lettura, le soluzioni le danno i medici e gli ospedali, però è un libro che racconta come lavorando, studiando, cercando si riesce, non magari a risolvere, però molto ad aiutare.